Presidente, Rocca Scalegna in Festival, 17esima edizione, una dimostrazione di come i piccoli centri dell'entroterra della nostra regione, in questo caso del Chietino, si danno da fare per movimentare un po' anche il turismo. Siamo davanti ad un'eccellenza, intanto perché sono diversi anni, 17 edizioni all'insegna della qualità di un prodotto, in questo caso prodotto cultura, prodotto evento, prodotto bellezza, la bellezza dell'entroterra, la bellezza delle vedute che Dio ci ha consentito. Io credo che il turismo di questa regione è alimentato e nutrito da queste iniziative che mettono in campo, la vitalità della comunità, la vitalità della cultura, l'effervescenza anche delle giovani generazioni e tutto quello che può consentire ad un territorio come il nostro di essere percepito come irripetibile, desiderabile e immaginabile. Io sono venuto a testimoniare il significato per Regione Abruzzo della iniziativa che si tiene ormai da 17 anni a Rocca Scalegna e l'anno prossimo di sicuro eleveremo ulteriormente la qualità avendo attenzione che ogni anno ci sia a sua maestà il fatto nuovo.